...innovativi, due principi e due novità che introducono le linee guida regionali e cioè la certezza della velocità delle procedure, quindi grazie all'informatizzazione dei sistemi la regione Fuglia incrocia il SIT con tutto il sistema informatico sistema Fuglia quindi procedure più veloci e certezza per gli imprenditori della fine del meter di richiesta poi di autorizzazione che non dovrebbe superare gli 180 giorni ha calcolato la regione che con le nuove procedure prodotte si dovrebbero risparmiare circa 45 giorni rispetto al passato